Sono quattro le persone che sono rimaste vittime delle sue truffe, tutti anziani aggirati nello stesso modo dal finto tecnico. È successo a Milano dove la Polizia di Stato di Mecenate ha eseguito nei confronti di un soggetto nato in Italia di origine nordafricana che si spacciava per un tecnico di A2A o di Telecom un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato e in debito utilizzo di carte di credito. L'esecuzione della misura ha costituito l'esito di una complessa attività di indagine durata oltre un anno, coordinata dal procuratore aggiunto della Repubblica e condotta dal personale del pool antitruffe. L'attività investigativa ha avuto inizio nel 2018 a seguito della denuncia presentata dalla prima vittima, la quale aveva subito un furto all'interno della propria abitazione da parte di una persona presentatasi come un tecnico della A2A. Successivamente l'indagato si è reso responsabile di altri tre episodi analoghi, sempre danni di persone anziane che avevano ricevuto visita dal medesimo soggetto, il quale si era presentato in tali occasioni come tecnico della Telecom. Lo schema era tuttavia sempre lo stesso, dopo aver carpito la fiducia della vittima, si impossessava di denaro e oggetti preziosi custoditi presso le abitazioni delle persone offese e, almeno in un caso, si impossessava anche del Bancomat, riuscendo a prelevare un'ingente somma di denaro. Le visite del finto tecnico erano sempre precedute da telefonate da parte di un finto centralinista che ricontattava le vittime per distrarle non appena il complice faceva ingresso nel loro appartamento.